Stai bene, aiuto! No, 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 no. Come noi facciamo così sempre Angeli in mente che non muovano Anime di carta che si incendiano Muori in colpone che fai qua Suoni fatti in maniera che spariscono Muori in colpone che fai qua Suoni fatti in maniera che fai qua Suoni fatti in maniera che fai qua Suoni fatti in maniera che fai qua Suoni fatti in maniera